Tailandia ha bombe in un resort, anche due italiani, tra gli undici feriti, morta una donna tailandese e gli ordini fatti esplodere a distanza. Terrorismo alla Guardia Costiera innalza la sicurezza nei porti, la decisione non sarebbe legata ad allarmi specifici. Crimea Poroshenko dispone l'allerta massima per le truppe e preparazione al combattimento anche nel Donbass. Siria, tregua saltata, le strade di Aleppo sotto assedio, le bombe sugli ospedali, i medici siamo allo stremo. Rio 2016, 22esimo oro olimpico per Phelps, lo statunitense vince nei 200 misti davanti ad Aghino e Wang. Roma, nessuno vuole i rifiuti della capitale, arriva il no dall'Umbria e dai sindaci del Lazio al piano raggi.